partita la gara degli 800 donne sono nove le atlete in questa serie unica era iscritta alla rovere col miglior tempo ma non è non si è confermata pertanto la migliore dell'otto diventa già da stanis ma attenzione anche a due dieci della croata aper sono nettamente le due atletico i tempi migliori due otto per la stanissa due dieci per la aver poi si fa due diciassette della gorge vince e proprio petra gorge vince che partita in prima corsia a tirare la gara di questi 800 gara 2 come dicevamo tra petra gorge vici e già da stanissa un bel passaggio e torno all'1 e 3 infatti 1 3 24 ottimo il passaggio lotta dicevamo lotta 2 tra gorge vicio e stanis stanis in gran spolvero in quest'ultimo mese ha fatto dei grandissimi campionati italiani a rieti dove ha ritoccato il suo primato personale portandolo a 2 0 8 e 0 5 e dove ha ottenuto una grande medaglia di bronzo dietro l'inagrivabile bellò e la sabatini vedete che proprio la stanissa ha deciso del sorpasso a metri 200 metri dal termine e a regolare questa gara sembra avercele ha fatta su petra gorge vince un bel applauso per già la stanissa forza 50 metri ancora a pratica di casa del costo di este che regole senza problemi la gorge vince chiude anche con grandissimo tempo la stanissa 2 9 e 18 un bel applauso per ora